Al momento della consacrazione, dell'elevazione, lo sentite presente e gli dite che gli volete bene e che volete conoscerlo e poi lo ricevete nella comunione. E poi pensate a tutti gli altri che ricevono anche loro la comunione. Poi dobbiamo guardarci in faccia, c'è anche il gesto della pace tra di noi. Sempre tutto perché apparteniamo a Gesù Cristo e perché l'abbiamo incontrato e l'abbiamo trovato. Ma quando scendiamo dobbiamo dirlo a tutti, come gli ambasciatori. Una fotografia del Vescovo Eugenio che vedete in questo poster, che sintetizza cosa ha potuto significare la sua vita eucaristica. Lo ritrae durante, guarda caso, un incontro dei giovani sul monte Tamaro. Monsignor Corecco sta distribuendo la comunione. L'ostia che tiene fra le dita è come sospesa fra il suo sguardo e la persona che la sta ricevendo, così che non si capisce se il Vescovo stia guardando l'ostia o la persona che la riceve. Il suo sguardo è così sorpreso nell'atto di unire l'adorazione di Cristo al dono di Cristo all'uomo. Il Vescovo adora e dona il Signore, così che il suo gesto esprime meglio di ogni altro ciò che l'Eucaristia è e deve essere nella Chiesa e per ognuno di noi. La presenza di Dio che si comunica agli uomini. Direi proprio una figura di pastore che sa da una parte essere una guida ferma, ma dall'altra anche un padre che sa accogliere, ascoltare. Così come era esigente con se stesso e anche con gli altri. La qualcosa non è sempre immediatamente piacevole. Era talmente essenziale che, come dire, magari ti mettevo un attimo in imbarazzo. Mi ricordo la prima volta che mi sono confessato da lui, mi ha detto non sei capace di confessarti, punto a capo. Ovviamente ho incassato il colpo, ho dovuto riflettere un pochettino, però devo dire che sono intervetti appunto essenziali che risvegliano in questo caso la coscienza forse un po' sopita. Credo che non si possa capire la genialità culturale e teologica di Eugenio Corecco se non si è fatto un'esperienza personale anche della sua straordinaria magnanimità nei rapporti umani e nei rapporti di amicizia. In fondo, ripensando bene a dieci anni di distanza dalla sua morte tutto il vissuto intenso e lungo avuto con questo grande uomo e questo grande uomo di fede e di chiesa, posso dire che le sue grandi idee, le sue grandi prospettive, le sue grandi iniziative, come anche quella della facoltà di teologia di Lugano, sono sempre nate dentro un rapporto dialogico con amici. L'esistenza stessa della società è un segno dentro la diocesi di ciò che il Vescovo Corecco ha potuto realizzare come trama di relazioni tra le persone. La società è nata come amicizia, direi essenzialmente. Abbiamo intenzione di pubblicare quest'anno un libro grazie anche a un benefattore che ha messo a disposizione la somma per realizzare quest'opera, un libro in cui raccogliamo una selezione dei suoi interventi come pastore nei vari campi in cui si è mosso. Io ho conosciuto Monsignor Corecco ancora all'università, è stato mio professore, ma l'ho visto diventare grande nel tempo e soprattutto durante il suo episcopato è stato per me di una paternità enorme. Ecco, questa potrebbe essere davvero oggi si dice la cifra sintetica di una personalità, una paternità diffusa, una paternità perseverante. Lui diceva sempre non mollare l'osso, cioè sta dentro nelle cose, quando incontri qualcuno prenditi cura. E questo libro è proprio, mi sembra, la documentazione, la certificazione di questa paternità diffusa, perché il libro racconterà solamente ciò che lui ha incontrato, ha vissuto e ha detto come vescovo. Quindi dai momenti dolorosi alla conferenza di alto livello, all'incontro con i malati, alla sua stessa sofferenza. Il mio ricordo è di avere avuto, come ho tentato di dire nell'Omelia, l'impatto con un uomo nuovo, e quindi un vescovo nuovo che ha portato una ventata di novità con una forza particolarmente significativa che è esigente nel vivere la fede e anche introducendo novità nella nostra vita ecclesiale che adesso richiedono ponderazione, discernimento, valutazione, completazione. Una presenza breve, ma molto pregnante, molto significativa. Ma credo che l'attuale vescovo Pier Giacomo abbia detto una cosa giusta. Il vescovo Eugenio ha aperto una pagina nuova nella diocesi. Ha come suonato un là, a cui poco tanto, che lo si condivida o non lo si condivida, bisogna accordare i propri strumenti. Quel tanto che ha lasciato in pochi anni ha bisogno di un'accordatura, perché lì ci sono già moltissime cose. Le cose che io ripenso come frase sintetica è questa. Non facciamo la pastorale delle cose, facciamo la pastorale della persona e per la persona. che vuol dire prendersi a cuore, la persona nel suo cammino, nel suo ritmo. Prendetevi cura di questo. Se prendete cura della persona così e avete Cristo nel cuore, la strada potrebbe essere difficile ma è senz'altro fruttuosa. Si vedeva veramente che la persona gli stava a cuore. E si fermava e parlava. La sua casa era veramente aperta. Tutti potevano accedere al vescovo sapendo che da lui potevano avere una parola conclusiva, una vicenda umana. Il fatto che abbia saputo valorizzare le persone e di per sé anche le istituzioni, se pensiamo al fatto che abbia voluto rilanciare l'azione cattolica, per esempio, mi pare che sia un valorizzare le persone attraverso di loro anche un'istituzione. direi che soprattutto ovviamente è un po' tutta la sua persona che rimane una testimonianza viva e quindi diciamo un punto di riferimento importante per tutti. sia quando era nel pieno vigore delle forze, quindi quando era pieno di iniziative, sia quando è vissuto segnato dalla malattia e dove ci ha fatto capire come sia importante essere sempre disponibili alla volontà del Padre così come essa si manifesta. Dobbiamo imparare ad accettare nel cuore veramente senza veli, senza sotterfugi e vi dico che il sotterfugio è la tentazione più sottile, ma dobbiamo riuscire veramente a metterci davanti a Dio nella nudità totale del nostro cuore. Noi dobbiamo accettare la malattia, questa è la condizione perché la malattia possa diventare segno profetico, possa diventare il momento nel quale superiamo le tentazioni che abbiamo dentro nel corso di tutta la vita, possiamo capire che la malattia è in ultima analisi, ma veramente una grazia perché ci cambia interiormente, ma l'accettazione è il presupposto che dobbiamo avere dentro di noi. Ed è il presupposto che il Signore ci può dare come grazia, che da soli non possiamo realizzare totalmente. Questa era la sua paternità, io potrei citarne tantissimi episodi, mi ho in mente uno, ma potrebbe essere questo che mi riguarda personalmente. Era il giorno prima della partenza per Roma, io avrei fatto il dottorato il giorno dopo, lui era a letto malato e dolorava e allora io ho sfondato in qualche modo questa fatica e sono arrivato con i miei dieci fogli della difesa della tesi e gli ho detto mi puoi dare un aiuto, puoi darmi un consiglio, puoi sottolinearmi qualche cosa? E lui a fatica si è tirato su dal letto e ha cominciato a scrivere, appuntarmi, interloquire e dire ma tu sapresti difendere questa cosa. Un'ora di intenso lavoro con una fatica enorme da parte tua che ogni tanto diceva adesso facciamo un attimo di pausa. Questa è una cosa dove io ho capito che cosa vuol dire stare vicino alla persona in un momento in cui quella persona sta passando, come dire, in un episodio delicato e importante. Questa è la paternità diffusa, è proprio stare sul pezzo, non mollare mai. Sono stati anni, mesi di una intensità e di una testimonianza profonda che hanno lasciato un segno vivo nel nostro popolo. Eugenio Corecco era fin da subito, anche grazie alle sue amicizie come ad esempio con Assunz von Balthasar, con Agliosef Ratzinger e tanti altri teologi, profondamente convinto che una facoltà di teologia e la teologia stessa o è in sé universale o viene meno a sé stessa. Quindi ha intuito che Lugano, essendo l'unica diocesi di lingua italiana non appartenente alla vicina repubblica, era nella posizione ideale sulla cosiddetta via delle genti per poter sviluppare una facoltà di teologia e un modo di fare e di vivere la teologia che avrebbe attirato qui, su questa via delle genti, che è anche la via dell'evangelizzazione dell'Europa, molti altri giovani uomini e donne di altre provenienze culturali, addirittura di altri continenti. Riconiugare il sapere teologico con l'esperienza della fede, in modo tale che non ci sia più un divorzio, diciamo così, fra quello che uno vive tutti i giorni e quello che uno sa sulla Chiesa, su Gesù Cristo, sulla cultura cristiana. Ma la specificità di Lugano è che si vuole compiere questa riconiugazione attraverso una pluralità di cammini spirituali, attraverso una pluralità, o se vuole una sinfonia, di carismi. All'entrata della facoltà di teologia c'è una pittura che si chiama La Concordanza, tra due angeli che rappresentano l'idea fondamentale, cioè concordanza tra Dio e l'uomo. L'uomo non è contro Dio, Dio non è contro l'uomo. Concordanza, dunque sinfonia, dunque comunione. Questo ha attraversato il cuore stesso di von Balthasar e il cuore stesso di Corecco, quando proprio hanno capito che questa concordanza è una concordanza dell'amore, una concordanza della carità. Mi pare che alcune delle sue intuizioni rimangono tuttora vive, tutti ci rendiamo conto dell'importanza che ha la facoltà di teologia oggi, mentre forse all'inizio molti non avevano capito la portata che poteva avere questa iniziativa. A dieci anni di distanza posso dire che se fosse ancora qui, Monsignore Eugenio Corecco sarebbe il primo a gioire profondamente come un bambino dal fatto che la facoltà di teologia è ora inserita responsabilmente, in modo maturo nel campus universitario della Svizzera italiana e quindi pronta e capace e di fatto già lo fa in gran parte a collaborare alla pare con tutte le altre facoltà universitarie. È un dono impegnativo ma anche importante e significativo, si pensi solo al fatto che è stato l'elemento trainante delle altre facoltà e della trasformazione del Ticino in cantone universitario, che non è apertura, sfondamento da poco. Io credo che debba consolidarsi nella sua presenza d'offerta, quindi nell'offrire una base filosofica importante, necessaria, significativa per rafforzare il contesto del pensiero debole contemporaneo e al tempo stesso essere il luogo dove l'approfondimento teologico entra dentro il vivo della vita, del tessuto del paese e sia significativamente presente a dare quel senso di pienezza, di apertura al trascendente, di significato che l'uomo ha bisogno di avere per una esistenza completa. Il nostro caro Vescovo Eugenio voleva che una delle figure ispiratrici della teologia che si insegnava qui fosse proprio il suo grande amico Hans-Husson Balthasar. Credo che la cosa che più ha accumulato questi due grandi personaggi della Chiesa del XX secolo, Hans-Husson Balthasar e Eugenio Coreco, pur nella loro così profonda diversità, sia la consapevolezza chiara, netta, profondamente vissuta, che il cristianesimo è un avvenimento. Il cristianesimo è un'esperienza che nasce dall'incontro con un fatto, con una presenza, che è Gesù Cristo morto e risorto per noi. Tutto il pensiero cristiano, sia per Balthasar come per Coreco, è una conseguenza di questo fatto. Non è che il pensiero, o come si dice, la cultura cristiana nasca dal mettersi lì a tavolino. No, è dal riflettere, magari assieme, dialogicamente, sulla comune esperienza di un fatto che ha cambiato la nostra vita, che ha cambiato addirittura l'intelligenza che noi abbiamo della nostra vita e tutta la nostra umanità. Von Balthasar era molto sensibile all'Einfaltung, come si dice in uno dei suoi libri, cioè ci indicava la strada del cristocentrismo, bisogna ripartire dal centro. E Monsignor Coreco addirittura era proprio sensibile a questo, bisogna ripartire da Cristo per unificare la vita. Cento anni dell'anniversario di Von Balthasar, dieci anni della morte del caro vescovo Eugenio Coreco, la morte di Don Giussani mostra in fondo questo legame. Tre carismi, tre volti particolari che hanno capito qualcosa del mistero di Cristo. Cristo è il mistero della fede così grande che bisogna testimoniare. Don Giussani, Monsignor Eugenio Coreco e Von Balthasar si sono lasciati guidare dallo spirito, trasformare la famosa disponibilità, la disponibilità mariale. Penso che tutte le tre anime erano delle anime mariane. Siamo Chiesa, siamo la Chiesa, dunque siamo tutte quelle persone che appartengono a Gesù Cristo e che lo cercano e si sforzano di conoscerlo, di riconoscerlo, di viverlo, di lasciargli essere presente dentro le nostre persone. Non possiamo fare come se non ci conoscessimo, perché tutti quanti abbiamo in comune la stessa cosa, il fatto di avere dentro Gesù Cristo nella nostra vita, perché siamo cristiani.